Allora ragazze benvenute, come sta andando il vostro Claudio? Per me benissimo Proprio eccezionale Sì, eccezionale La mia passione è sempre stata, avevo 12 anni quando ho iniziato a seguire Claudio e poi ho cominciato con la vita adesso e ho proseguito fino ai giorni d'oggi Io non ho proprio un aneddoto particolare che mi lega a lui una canzone e tutto so solo che, posso dire già dalla pancia di mia madre, credo che l'abbia amato perché ogni sua canzone, ogni suo... anche solo il parlare mi dà emozioni quindi da lei capisco che sono una baglioncina pure